Per me va benissimo anche domenica, tanto non sarà all'alba. Allora organizzo. Sono contento di essere qui oggi. Ho finalmente deciso di vedere un altro medico. Ho pregato e spero che oggi la dottoressa Lee possa aiutarmi a liberarmi del mio amichetto una volta per tutte. Buongiorno! Salve! Sono la dottoressa Lee, è un vero piacere. Benvenuto! Che cosa posso fare per lei? Allora, ho una massa nell'interno coscia, proprio sotto la natica sinistra. Da quanto ce l'ha? È iniziata come un gonfiore circa cinque anni fa, ma negli ultimi tre anni è triplicata. A causa della sua posizione non riesco a stare seduto bene, quindi poi mi fanno male l'anca e la schiena. Sono assistente pastorale. Ok. Taglio l'erba o faccio lavoretti in giro per la chiesa. Quindi lei è molto attivo, va bene. Andiamo dentro, così può tenere su i boxer, ma almeno può togliere i pantaloncini così posso dare meglio un'occhiata, va bene? Sì, grazie. Ci vediamo tra un po'. Jeremy è un uomo molto dolce, ma un'escrescenza in quella posizione metterebbe in difficoltà chiunque. Devo fare in modo che non si senta in imbarazzo, ma devo anche poter vedere di cosa si tratta per capire se posso intervenire o meno. Fammi dare un'occhiata a questa piccola zona, o grande zona sarebbe meglio dire. Può mettere sulla gamba? Sì, forse è la cosa migliore. Aha, peserà pure. Fa male. Le fa anche un po' male, eh? Sì. Perché pesa, direi. Va bene, allora sembra un lipoma e è irrorato di sangue perché ha un peduncolo. Infatti diciamo che è peduncolato perché è appeso a un peduncolo, appunto. Ho già visto un lipoma simile a questo e proprio nella stessa zona. Ma perché gli uomini permettono alle escrescenze come questa di diventare tanto grandi in questa zona? Non lo so. Il lipoma ha un peduncolo. Ovviamente mi preoccupo sempre di eventuali emorragie in quel punto e devo evitare che i bordi della cicatrice siano troppo tesi. Devo assicurarmi di chiudere bene la ferita per impedire che si riapra. Per me è importante riuscire a togliere la massa e poi ricucire la zona in modo tale che non si riapra se si abbassa o cose del genere. Secondo me oggi riusciremo a fare qualcosa. So che il signore tiene la dottoressa lì nelle sue mani e la guida. Lei pensa di potermi risolvere il problema, quindi staremo a vedere. Ok, eccolo qui.